Buonasera, ben trovati con il TG7 di Gallarate, lo spazio informativo sulla città dei Due Galli. In arrivo appunto per la città dei Due Galli 500 mila euro dalla regione Lombardia e lo ha annunciato l'assessore alle attività economiche Rocco Longobardi. Serviranno per finanziare il progetto Green Smart per il rilancio del centro e del commercio. In questi giorni il Consiglio Comunale si è riunito e al centro un altro progetto, quello del Palazzetto dello Sport, non senza qualche polemica. Poi ci spostiamo a Cassano Magnago per l'inaugurazione di una casa di comunità. C'era anche il direttore generale di ASST Valliolona, Eugenio Porfido, che ha parlato del grave problema della carenza di medici. Poi affronteremo anche argomenti più leggeri, parleremo del concerto, del coro divertimento vocale strepitoso al Teatro Condominio di Gallarate. Poi parleremo di cabaret e anche di manga e anime direttamente dal Giappone. Allora state con noi e buona visione. Palazzetto sì, palazzetto no. L'ultimo Consiglio Comunale di Gallarate, prima delle festività natalizie, si è trasformato in una sorta di referendum, come lo ha definito il capogruppo del PD, Giovanni Pignataro. Nel bilancio preventivo, che è stato approvato solo dalla maggioranza, pesano, secondo l'opposizione, 6 milioni di euro di investimento su due anni, con la probabile accensione di mutui per la realizzazione del nuovo impianto sportivo a Morigia. Oltre a criticità di ubicazione, di accesso e parcheggio, un botta risposta, che ha generato anche qualche scintilla, secondo la minoranza, è una questione di responsabilità gestire al meglio le risorse del Comune e dei cittadini in una situazione come quella attuale, concentrandosi su interventi più utili alla città, come si legge nell'emendamento, per la riqualificazione degli edifici scolastici e per l'abbassamento del debito dell'ente. Risposta secca del sindaco Andrea Cassani, che ribadisce che la progettazione del palazzetto verrà effettuata da professionisti seri e ricorda, come nel corso dei suoi mandati, abbia già provveduto ad abbassare l'indebitamento ereditato e apportare risorse nuove per la città dall'ottenimento di bandi. Su documento di programmazione, Sonia Seratti ha dichiarato che manca totalmente di una visione della città, bocciati anche due emendamenti di Obiettivo Comune e Gallarate, per il ripristino del Fondo Barriere Architettoniche, non cancellato ma spostato in un'altra voce, spiega l'assessore Canziani, e quello per l'efficientamento energetico e la manutenzione di strade marciapiedi. Intervento acceso quello del consigliere comunale della lista civica Cassani Sindaco, Thomas Valentino, e presidente onorario del club Basket Gallarate. Siamo vicini a Malpensa, non abbiamo un'opera sportiva, un ambiente sportivo che possa ospitare gare nazionali. Siamo l'unica città che non ha una struttura sportiva adeguata. La maggioranza rimasta dunque compatta, sottolinea il consigliere leghista De Ligios. Il palazzetto era nel programma, con cui abbiamo ampiamente vinto le elezioni. Taglio del nastro a Cassano Magnago per inaugurare la casa di comunità Spock, ovvero collegata al distretto di Gallarate, presso la sede dell'ex ospedale Sant'Andrea di Via San Giulio, già operativa dal primo dicembre. Diversi servizi già attivi per i cittadini di Cassano e di altre città limitrofe, come Caerate, Cavari, Albizzate e Ierago, sul Biatearno o Giona Santo Stefano. Vede la presenza di quattro infermieri di famiglia che si alternano poi nella loro presenza dal lunedì al venerdì, con i servizi di accoglienza attraverso il front office del punto unico di accettazione, ma non solo, attiveremo un punto prelievi a brevissimo e avremo anche la possibilità di avere in giorni stabiliti un ambulatorio per i pazienti cronici di questo territorio. In più abbiamo ormai quasi attivato in modo sostanziale la telemedicina, quindi la possibilità di utilizzare delle strumentazioni per seguire i pazienti a domicilio. Per il sindaco Pietro Ottaviani non solo luogo fisico, ma anche di integrazione, soprattutto per persone con difficoltà e per i loro familiari. Un punto di appoggio per alleviare il passaggio tra i due ospedali e l'ospedale unico, ha continuato il sindaco di Cavaria, Franco Zeni, unendosi all'auspicio di Ottaviani che si possa risolvere anche il problema della mancanza dei medici di base e che le polemiche siano costruttive. risponde Eugenio Porfido, direttore generale della SST Valliolona Noi ascoltiamo tutti, purché si mantenga sempre un dialogo. Presente anche il presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia, Emanuele Monti. Questa sia la casa dei Lombardi, non sia la casa solo della salute, ma sia una casa che possa ospitare anche i servizi, la sociale alla disabilità, l'integrazione sociosanitaria, per essere veramente un luogo vivo nel quale tanti servizi di territorio si uniscano. Ci vuole una legge speciale, ma a livello nazionale e al più presto, se vogliamo risolvere il problema della carenza dei medici e del personale sanitario, situazione che è ormai riscontrabile non solo negli ospedali del territorio, ma di tutte le regioni d'Italia. Così si è espresso Eugenio Porfido, direttore generale di ASST Valliolona, che ieri era presente all'inaugurazione della Casa di Comunità di Cassano Magnago. Qualcosa è stato fatto, continua Porfido, con nuove borse di studio per l'accesso alle specialità, ma non basta, contando l'alto numero di pensionamenti e le tempistiche per la formazione dei futuri specialisti. Credo che lo strumento, credo, non sta a me dirlo, sia quello di arrivare a una legge speciale che dia una serie di possibilità per recuperare professionisti da mettere velocemente all'interno delle nostre strutture e su cui garantire un percorso formativo. Questo per riuscire a sopravvivere, mantenendo aperti i servizi, nei prossimi 4-5 anni. La stessa situazione l'hanno vissuta gli anglosassoni 20 anni fa, prosegue Porfido, ma con una grande differenza. Avendo loro il Commonwealth, sono riusciti a fare entrare all'interno del paese un numero elevato di professionisti provenienti dagli stati del Commonwealth e riuscire a tamponare questo errore di programmazione. Noi non siamo in questa condizione, sapete che abbiamo anche dei vincoli, non possiamo assumere personale che non fa parte della comunità europea. Tutte le assunzioni che sono state fatte sono sempre state assunzioni temporanee. Credo sia inevitabile incominciare a pensare a una legge speciale. Sold Out, arrivato a pochi giorni dall'apertura del botteghino, il concerto di Natale. Quest'anno a Gallarate è stato ancora più sentito e partecipato, dopo tre anni di mancanza. Sul palco del Teatro Condominio è tornato il coro divertimento vocale, con 130 coristi e 7 musicisti, guidati dalla passione e dall'energia del maestro Carlo Morandi. Da i brani, da i brani, da i brani, da i brani di Natale. Natalizi, aritmiche, blues e gospel, fino al classico e pop. Una serata di musica e solidarietà per sostenere, come di consueto ormai da dieci anni, l'Associazione del Territorio, Amici del Centro Studi Sclerosi Multipla, un'iniziativa con il patrocinio dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Gallarate e dell'azienda ospedaliera Sant'Antonio Abate, della SST Valle Olona. Il successo mondiale dei manga e delle anime provenienti dal sollevante arriva anche a Cassano Magnago. Almeno 400 le persone, fino ad ora, tra grandi e piccini che hanno ammirato giocattoli, disegni e seguito incontri con i propri beniamini alla Japan Toys Exhibition presso l'ex chiesa di San Giulio, patrocinata dal Comune e dal Consolato del Giappone, con altri appuntamenti previsti a gennaio. Questo evento, per quanto ci riguarda, è arrivato come discorso di completamento dell'attività culturale. Ho conosciuto i responsabili, ho conosciuto la loro attività, ho visto soprattutto l'interesse che mi riportava circa 20 anni fa quando i miei figli guardavano i cartoni animati che rappresentano un pochino tutta l'arte culturale importantissima giapponese. Tra gli ospiti più conosciuti, Gianluca Iacono, lo storico doppiatore, dalla fine degli anni 90, di uno dei personaggi principali del manga Dragon Ball di Akira Toriyama, il principe Saiyan Vegeta. Lo amo per tante cose perché è un personaggio che dà la forza di rialzarsi. Per tanti è così, per tanti ragazzi che mi scrivono anche, trovano in Vegeta questa forza di andare avanti. I personaggi grossi ovviamente sono anche la voce di Gordon Ramsay, per esempio, di Marshall in A.M.A.R.M.A., che è una sitcom che ha avuto comunque un grossissimo successo. A proposito di Vegeta, è nato anche un nuovo lavoro, che ha un titolo un po' particolare. È un titolo un po' provocatorio, cioè Vegeta è morto e l'ho ucciso io, che è uno spettacolo che farò al Martinit a Milano il 10 e l'11 gennaio, e poi dal 2 al 5 febbraio a Roma al Teatro dei Servi, in cui porto il doppiaggio a teatro, porto Vegeta a teatro, porto il mondo nerd a teatro, il mondo pop, e poi anche il mio lavoro, cioè come si convive con tutte queste voci nella testa. E tra gli ulli di battaglia di Vegeta... Lampo finale! Fine. Pioggia, neve e persino il Covid non hanno fermato il laboratorio di risate ed è giovedì al Caffè Teatro a Samarate, dopo l'inaugurazione di settimana scorsa a cui hanno preso parte personaggi famosi, come Giorgio Gori, Antonio Marano, Giancarlo Bozzo, ideatore di Zelig e diversi comici amici di sempre. Ecco che sul palco del piccolo tempio storico del cabaret di provincia torna quella stessa atmosfera che si respirava in passato, quella magia e complicità che legava il pubblico all'artista, tra improvvisazioni, comici in erba e tanto divertimento. Siamo appena ripartiti, siamo con un motore dove siamo già partiti in terza, ma per sapere come andranno le serate del laboratorio bisogna aspettare gennaio, febbraio. In questo momento sono serate dove a migliaia ci chiedono di partecipare, ma solo pochi vengono, in realtà scherzo, perché stasera è una serata di eroi, perché ha piovuto, ha nevicato, ci sono stati mille accidenti, eppure eravamo in tanti, eppure ci siamo divertiti. Matteo, tu sei arrivato qui uomo stasera, tornerai a casa bestia. Con gennaio partiranno qui il laboratorio del caffè teatro di Vergara di San Malate, dei laboratori, a cui cercheremo di dare ogni sera un tema diverso per cercare di intercettare un bisogno diverso. Il nostro momento è sempre quello, divertirci e fare divertire, capire quali sono le nuove forme del divertimento per disseminare la società di endorfine. Se le persone sono piene di endorfine non hanno voglia di litigare, sono più felici, non hanno voglia di fare la guerra, e di questo abbiamo bisogno di una rivoluzione di risate e di pace, di smettere di pensare alla guerra. A fine anno è tempo di benemerenze, sono state consegnate al club sportivo Basket Gallarate, alla compagnia Arceri Monica, alla scuola di Danza Procenium e all'azienda Tessile Yamamai. Oltre alle benemerenze, consegnate dalla Croce Rossa italiana di Gallarate, ai volontari, a una trentina di volontari, insieme alle sette croci di anzianità. di anzianità, una in particolare per 25 anni di servizio. Ed è tutto per questo TG7 Gallarate, vi ricordo l'appuntamento per mercoledì prossimo, sempre alle ore 20. Vi ricordo anche l'appuntamento per gli altri TG7 riguardanti altre città, Varese, Busso Arsizio e anche il canton Ticino, da mercoledì a sabato, sempre alle ore 20. Grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona serata. Grazie per l'attenzione, a voi tutti una buona serata.